La politica sotto l'ombrellone è sempre foriera di polemiche che assomigliano dei veri e propri temporali estivi in casa del centro-destra. Toscano stanno cercando di costruire un progetto che possa portare ad una candidatura forte in grado di contrastare il passo ad Eugenio Gianni che è forte della sua consumata esperienza, ha fatto buon viso a cattiva sorte nei giorni scorsi dopo la composizione della giunta Funaro a Firenze che di fatto ha escluso possibili assessori della sua area politica. Gianni, a meno di clamorosi sconvolgimenti, sarà il candidato del centro-sinistra. Resta da capire quanto allargato, considerato che Renzi, dopo la delusione europea, ha sensibilmente riavvicinato le sue antenne al suo vecchio partito creando non pochi imbarazzi all'interno di Italia Viva, ma le scintille maggiori sono tornate a rimergere a destra dove non tutti hanno colto con entusiasmo l'uscita di Fratelli d'Italia che punta alla candidatura del sindaco di Pistoia Tomasi è stato lo stesso massimo dirigente di Forza Italia-Taiani a sollevare la questione asserendo che nessuno ha mai parlato di questa questione. Silenzio in casa Lega che deve riordinare le fila dopo il non certo esaltante dato elettorale europeo. Magari il tema sarà ripreso proprio ad Arezzo dove i civici di centro-destra si sono dati appuntamento dopo la sortita del maggio scorso a Pisa. E a proposito di polemiche estive spicca anche la divergenza di opinioni tra il presidente Gianni e il capogruppo del PD Regione Vincenzo Ceccarelli sul pedaggio per i mezzi pesanti sulla FIP-Li. Le casse piangono e Gianni da qualche parte deve recuperare. Se ne riparerà in settembre con la costituzione di un'apposita società e su questo fronte gli autotrasportatori sono già in fibrillazione.